Chesserebbe Che rispense? Che rispense? Che rispense? Che rispense? Bello R either. O è quello che vengono a tutti? Especialmente è proprio un po' Perché non è mai? Perché non è mai Perché non è mai... Duecinque, scusami Non è una cosa rにma Lavami duecinque Dica che aspetta E uno E prima è calzare 50 E io come sa? Buonio venite junta Non è successo Si, aiuto, non è mai così tanto Oh, i miei 25 Ah, la parola la roba per te per te per te per te per te per te che fai che fai che fai spagato stappo stiamo spagato ah già fai te che fai 50 euro e fai la cosa di indefinito no c'è ando lascio un po' di tu dai 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 poi c'è sordo con cazzo ho fete fare l'ortetto lavatura per te guardate a tutte oh ebbè la venticina vedi non c'è allora tu io ci metto la venticina vedi aspetta 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 ok come c'è sulle cinque sulle cinque sulle cinque ma perchè hai semplice sulle cinque e stavo la cinque ma non mi 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 non mi hai messo 25 euro non mi ha messo 25 euro ho messo la 50 tu hai cambiato 25 euro neanche così allora io ho messo io ho messo io ho messo 25 euro 25 euro ok 25 euro 25 euro 25 per me 25 per me 25 per me 50 50 25 25 25 le hai presi da lui perchè lui ha messo la 50 e poi l'ho rimesso la e poi l'ho messo la 50 tutti hanno visto i gesti che mi piace ci hanno visto i gesti che mi sono andato è filmato ma io ti ho detto ma io ti ho detto 25 per me non ho la feciato 20 20 no Federico Federico è la Marcella 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 la feciato non ti fai 7 e 5 ma fa 6 per me raffaele ti trovi che come ti fa vabbè 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 facetevi vedere come quello che vuoi quello che mi vuoi vabbè 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 secondo me ne venite pur secondo me lo sai non mi vede molto 5 2 uuuu vabbè 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 ma a reddipattuno